E allora cominciamo a raccogliere anche qualche commento, abbiamo fatto una panoramica per adesso sulle comunali ma per ora abbiamo un po' guardato alle principali città italiane, adesso ci avviciniamo un po' di più a noi tra i comuni che vi vogliamo raccontare c'è per quanto riguarda la Valchisone Villar Perosa che ha visto la riconferma come sindaco per Marco Ventre e lo accogliamo qui all'interno di questa diretta speciale allora innanzitutto ciao Marco, benvenuto e congratulazioni chiaramente per questo voto e quindi insomma così a caldo quali sono le prime indicazioni, che cosa hai visto, che cosa hai imparato da questo voto qualcosa che ti ha sorpreso, insomma che cosa a te ne rimane? Beh dopo dici anni di amministrazione erano tutti un po' preoccupati perché il fatto che c'è un po' di stanchezza questo è naturale, poi è stata una campagna elettorale particolarmente difficile perché era mancata il nostro assessore Serenega Pascal da qualche settimana quindi non è stata una campagna molto facile da quel punto di vista però quando poi ottieni quasi il 75% dici che il riscontro è stato ottimale quindi la gente ha compreso anche le difficoltà che abbiamo avuto in questi anni vuol dire e quindi non c'è altro che pancia a terra e continuare a lavorare a portare a casa dei risultati Esatto esatto, mi ricordo quando ci eravamo sentiti qualche tempo fa che insomma le problematiche principali i problemi principali che ha di fronte a Villarperosa sono simili se non quasi fotocopiati con tanti comuni delle aree interne quindi lo spopolamento, la questione del lavoro che immagino siano sempre in cima alle preoccupazioni ancora adesso Certo, diciamo che c'è un dato positivo ma spero che sia positivo perché a livello regionale sono entrati alcuni consiglieri che rappresentano il territorio, ripeto positivo ma anche non positivo perché in città metropolitana abbiamo tre esponenti che ad oggi hanno fatto pochissimo per il territorio e mi auguro che in regione ci sia un atteggiamento diverso anche perché noi non mancheremo di far capire a queste persone che non basta chiedere il voto ma poi occorre un riscontro puntuale sulle nostre problematiche, non ci faremo sentire da quel punto di vista Chiaro, chiaro, questo è un punto importante effettivamente da sottolineare tra l'altro noi abbiamo scelto anche un po' a fatiche a quali comuni concedere spazio in questa diretta anche perché si è votato in tantissimi comuni, anche tantissimi comuni della Valchisone, Germanasca ad esempio visto che ci sono anche alcune organizzazioni sovracomunali da questo punto di vista tu intravedi un qualche spostamento di equilibrio oppure si fila dritti come prima? Ma in Valchisone, Germanasca ci sono stati cambiamenti a livello di sindaci vedremo, quello che sarà fondamentale è garantire una continuità perché la Valchisone, Germanasca in questi anni ha preso delle risorse importantissime e che vanno cantilizzate quindi spero, ma sono sicuro che ci sia un atteggiamento di correttezza da parte di tutti perché questi progetti vanno cantilizzati e portati in termine e vedremo come andare avanti però sono molto positivo perché la maturazione della classe politica in questi anni è andata oltre il campanilismo quindi si possono fare cose discrete Anche perché noi fin dall'inizio di questa diretta che fin dall'europea e poi man mano che ci siamo sposati dalle comunali un elemento che è emerso fuori è l'importanza un po' del dialogo, della collaborazione appunto ne abbiamo parlato in termini di forze politiche ma al discorso si può sovrapporre anche a quello dei comuni quindi insomma anche dal punto di vista immagino che i cantieri di cui parli abbiano a che fare soprattutto con il PNRR con finanziamenti di questo tipo e sono progetti immensi da affrontare individualmente per i piccoli comuni Assolutamente, assolutamente, assolutamente Chiaro, chiaro quindi insomma mi sembra di capire che non ci si aspetta un grande sconvolgimento e la speranza è che anche le nuove voci che entrano giustamente insomma perché ci si alterna alla guida dei comuni siano un po' collaborative ecco questa è un po' la tua speranza Assolutamente Ottimo, ottimo Allora magari avremo ancora modo di contattarvi Posso aggiungere una cosa? Prego Credo che nei prossimi mesi la parte mia sicuramente ma credo che ci sarà grande condivisione da parte di molti sindaci l'argomento su cui noi dobbiamo batterci con forza è la sanità pubblica è un argomento spinoso che molte volte viene nascosto da logiche di partito ma a livello territoriale soprattutto a livello di astro 3 la situazione sta degenerando veramente da punto di vista dei servizi sono sempre meno puntuali le visite sono sempre più lunghe questo è un argomento su cui tutti devono fare una profonda riflessione come territorio e ripeto al di là delle logiche di partito dobbiamo salvare la sanità pubblica quindi questo è un imperativo che vale per tutti da parte mia non mancheranno nei prossimi mesi delle iniziative anche pesanti a quel punto di vista E qua ci leghiamo un po' alle dichiarazioni che appena ha fatto Ciri o non appena è stato eletto che ha dichiarato quantomeno di voler mettere la sanità al primo posto ci sono chiaramente due asterischi uno se effettivamente sarà così due che cosa vuol dire? nel senso ci si può occupare di sanità e portarla in tante direzioni diverse e quindi mi fai capire che la pressione dei comuni sarà verso una certa direzione il nostro territorio nel suo punto di vista 3 negli ultimi 10 anni è stata fortemente ridimensionata nei servizi questo è un dato oggettivo poi capisco anche la declaratoria del governatore ai termini delle elezioni che hanno visto un risultato ottimale ma si deve passare dalle parole ai fatti noi non ci accontenteremo delle parole soprattutto se si considera Marco intanto congratulazioni anche da parte mia se si considera il fatto che come dire la partita della sanità nelle regioni è una partita che economicamente è una partita enorme per cui insomma il fatto che poi ci sia un come dire un quasi un disimpegno progressivo insomma rispetto alle strutture questo lo vediamo quotidianamente insomma è preoccupante davvero il problema è un altro che c'è gente che non si cura più perché non ha i soldi per andare per strutture private perché molte visite sul pubblico passano 7, 8, 9, 10 mesi devi andare anche perché c'è anche un problema di mobilità sanitaria devi andare a Rivo, devi andare a Cuneo la gente non si cura più quello è un problema di fatto soprattutto in territori come il nostro Montani dove c'è una presenza fortissima di anziani e questo non va più bene quindi occorre necessariamente cambiare cambiare assolutamente passo questo è un dato oggettivo quindi su questo è l'impegno di tutti e di tutto il territorio esatto esatto anche perché forse un po' ci dimentichiamo quando parliamo di spopolamento delle aree interne non è qualcosa che avviene da solo in automatico inevitabilmente ci sono delle spinte una di queste spinte anche se non viene spesso citata è anche immagino la sanità ovvero mi vado magari a spostare a trasferire più vicino a delle strutture perché altrimenti non riesco più a curarmi e questo è un elemento concretissimo e non ideologico dire proprio come dicevi tu un po' a prescindere dalle forze politiche qualcosa proprio di trasversale assolutamente Marco grazie mille davvero per questa chiacchierata ci hai dato davvero alcuni spunti interessanti buon lavoro a te buona fortuna e alla prossima ciao Marco ciao ciao ciao